Sono sospesi tutti gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia in luoghi pubblici che privati. Saranno consentiti gli eventi sportivi, quelli da cui partecipano atleti professionisti o di categorie assolute che partecipano ai giochi olimpici, manifestazioni nazionali e internazionali, ma o a porte chiuse oppure all'aperto senza presenza di pubblico. Poi ancora sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo pubblico privato, quelle manifestazioni a carattere ludico, culturale, sportivo, religioso, fieristico, ma sono anche sospese tutti gli eventi nei cinema, nei teatri, nei pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommessi, sale bingo, discoteche. Noi quindi non possiamo più permetterci in queste aree aggregazioni di persone.